Patrice è una Juventus che ha vinto, però pur dominando la partita non ha creato moltissime occasioni e è andata a segno con due giocatori che di solito non marcano il cartellino. Vuol dire che vi siete un pochettino risparmiati oggi? No, risparmiati no, vuol dire solo che il campionato italiano è difficile. Vincere contro l'Atalanta, contro il Bologna, contro il Sassuolo è sempre difficile. Diciamo che non abbiamo chiuso la partita prima, ma alla fine sono veramente contento per tutti i miei compagni perché adesso sono tutte delle finali, allora vincere giocando alla grande o giocare benino, le importanze sono i tre punti. E l'indifesa state giocando, credo, anche per il capitano perché sta raggiungendo un traguardo personale molto importante, uno dei pochi che gli mancano. Per dire la verità non parliamo neanche di questo con Gigi, perché la cosa che parliamo di più con Gigi è questo quinto scudetto di fila, perché il record, se non vince il campionato la gente le dimentica. Quello che è importante adesso è veramente scrivere ancora la storia e vincere questo campionato cinque volte di fila. Cosa avete di più nella testa, il Sassuolo o il Bayern Monaco? No, il Sassuolo, il Sassuolo sarebbe un gravissimo errore di pensare al Bayern. Dobbiamo pensare una partita per l'altra e il Sassuolo lo so che hanno vinto oggi, mi ricordo anche l'anno scorso era difficile, all'andata abbiamo anche pareggiato, penso. No, una bella squadra che rispettiamo come abbiamo rispettato oggi l'Atalanta e farà meglio del meglio, però noi non abbiamo altre scelte di vincere tutte le partite.